Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Guardiani della Galassia Vol. 3, ne parleremo senza spoiler all'inizio e con una parte spoiler finale, con un avvertimento iniziale, quindi potete stare tranquilli, vi avvertirò prima di passare agli spoiler e non chiedetemi perché io stia facendo questa recensione solamente adesso, nonostante abbia visto il film al day one, il 3 maggio, il giorno d'uscita, però il motivo è sempre lo stesso, il tempo è quel che è, quest'anno ci sono diversi impegni più del solito, quindi mi viene e mi verrà difficile registrare dopo essere uscito dalla sala e per questo c'è anche il mio profilo Instagram, il profilo di Letterboxd, dove pubblico delle mini recensioni appena uscito dalla sala perché quelle scritte è abbastanza facile farle, in poco tempo ci si riesce e tra l'altro su Instagram c'è una specie di format differente, oltre che le recensioni, ovvero le recensioni fuse. In poche parole mi metto, metto la mia faccia sopra le locandine, sopra i personaggi, nella maggior parte dei casi il risultato è qualcosa di raccapricciante, davvero orribile, come per esempio quello di Peter Pan e Wendy, dove mi sono messo in tutti i personaggi principali del film, ovvero Peter Pan, Wendy e Capitano Uncino, ma anche quello di Super Mario Bros il film in cui sono la principessa Peach. Naturalmente l'ho fatto anche per Guardiani della Galassia Vol. 3, mi sono messo solo su Starlord, Gamora e Kraglin, basta, comunque i miei link per gli altri social oltre YouTube li trovate nella descrizione. Ma adesso direi di passare a parlare di Guardiani della Galassia Vol. 3, ne parlerò ovviamente, come ho già detto, senza spoiler inizialmente, poi entrerò nei dettagli nella seconda parte del video, e prima di parlare effettivamente del film io vorrei dire che in questo momento io mi immagino un Kevin Feige messo in un angolo dei Marvel Studios a piangere ininterrottamente, perché ha visto volare via dalle sue mani un genio, potrei dire tranquillamente, come James Gunn. Per chi non lo sapesse, la faccio breve perché penso che un po' tutti conoscono la storia, qualche anno fa i vertici di Disney hanno trovato dei tweet compromettenti di James Gunn, però risalenti comunque a dieci anni prima, il che è tutto da dire, e seduta stante hanno licenziato Gunn per Guardiani della Galassia Vol. 3. E per tutto quello che sarebbe venuto dopo, perché ne parlerò fra poco, doveva fare altro oltre ai Guardiani. Quindi dopo due film apprezzati da tantissime persone, Gunn va via dai Marvel Studios. Viene poi preso da Warner a dirigere adesso i SED Squad, Peacemaker, e ora è praticamente Kevin Feige della DC, metà Kevin Feige diciamo, perché poi c'è anche Peter Safran, quindi è la testa di Kevin Feige. Ma dopo diverse minacce, minacce tra virgolette, come Dave Bautista che ha detto che non avrebbe più lavorato con i Marvel Studios se non avessero preso Gunn per l'ultimo film dei Guardiani, Gunn appunto viene riassoldato dai Marvel Studios per l'ultimo film, che secondo me non sarebbe mai stato questo film che abbiamo visto in questo mese se non fosse successa quella cosa qualche anno fa. Adesso non ricordo esattamente l'anno, però 2018-2019. Questo Guardiani della Galassia Vol. 3 non sarebbe mai uscito in questo modo. Comunque Gunn avrebbe dovuto occuparsi prima del licenziamento anche del lato cosmico dei Marvel Studios, quindi per esempio forse anche gli Eterni potrei dire, un Nova, un Galactus, quindi magari anche Silver Surfer e i Fantastici 4, chi lo sa. Sono cose che non vedremo mai lavorate da James Gunn perché appunto ora lui si occuperà di altro. E sono super in hype per Superman Legacy e per tutto il DCU, dopo aver visto soprattutto questo Guardiani della Galassia Vol. 3. Io sono da sempre un grandissimo fan dei Guardiani, naturalmente sto parlando solo del lato cinematografico perché non li conoscevo dai fumetti, non li conosco tuttora, non ho mai letto un fumetto dei Guardiani della Galassia e credo che quasi nessuno li conoscesse prima del film del 2014. Lo ripeto anche qui, l'ho detto spesso, non sono un conoscitore dei fumetti. Leggo qualche fumetto qua e là, le storie più importanti, magari potrei parlarvi di degli avvenimenti importanti come Secret Invasion, le guerre segrete, Civil War, queste robe le conosco, però non sono un esperto di fumetti. In generale, né fumetti Marvel né fumetti DC, nulla. Quindi tutte le cose di cui parlerò oggi, che fanno riferimento ai fumetti, faranno parte di cose per sentito dire o cose che effettivamente ho letto prima di attivare la videocamera. I trailer del film mi erano piaciuti tantissimo, soprattutto il primo, e si capiva fin da subito che questo terzo capitolo avrebbe visto al centro della storia più Rocket, Rocket, non Rocket Raccoon. E così è stato, effettivamente, anche se, come anche gli altri due film, il gruppo è protagonista. Rocket qui ha quella cosa di spicco, cosa che anche Star-Lord aveva nel secondo film. Il primo film si è occupato più del gruppo, presentandoci appunto ogni personaggio nel miglior modo possibile. Il primo film, secondo me, è perfetto, nonostante non sia il mio preferito della trilogia. Preferisco il secondo. Il secondo poi si è concentrato di più sul background di Star-Lord, con Ego, con la scoperta che lui non è del tutto terrestre, ma è per metà celestiale, quindi per metà un dio. E questo terzo film invece si occupa più di Rocket nel modo migliore possibile. Non solo perché il villain, l'alto evoluzionario, è legato a doppio filo con il personaggio, ma proprio per quello che ci viene fatto vedere per tutta la durata del film. Rocket è sempre stato un personaggio molto riservato anche all'interno del film, quindi non abbiamo avuto modo di scoprire la sua storia, cosa che neanche i personaggi effettivi del film, dei guardiani, neanche gli altri guardiani hanno avuto modo di fare all'interno della loro storia di gruppo, perché appunto era un personaggio molto schivo e riservato. Questo terzo film ci voleva, perché oltre ad essere un film conclusivo per il gruppo, che conclude tutte le storie nel miglior modo possibile, secondo me, è un film più su Rocket. Ed è per questo che dico che originariamente, secondo me, non era una conclusione questo terzo capitolo. Probabilmente all'inizio era solo un film su Rocket, poi gli altri possibili volumi dei guardiani della galassia avrebbero introdotto i background di altri guardiani, magari come per esempio quello di Drax, cosa che appunto non succederà, perché James Gunn ha cambiato totalmente casa e ha fatto bene. Possibilmente avremmo visto anche qualcosa su Groot, non credo un film dei guardiani dedicato al background di Groot, ma unirlo a qualche altro guardiano, però secondo me appunto l'idea originale era quella di dedicare ogni film dei guardiani a un guardiano ben specifico, alla sua storia di origini, come singolo personaggio, perché poi la storia di origini dei guardiani è quella del primo film. Parlando di questo terzo capitolo, più generalmente posso dire che le emozioni che si sono provate sono indescrivibili perché sono letteralmente una montagna russa e non nel modo sbagliato del termine, ma davvero sei lì che ridi, ridi tantissimo per la battuta di riferimento alle Zart Noci di Infinity War e due secondi dopo sei lì che piangi. Allora, io devo dire la verità, non ho pianto, però mi ci sono avvicinato tanto, non sono uno che solitamente arriva a piangere proprio con i film, ma gli occhi lucidi riescono ad arrivare, la pelle d'oca assolutamente è stata di casa con questo terzo film, in tantissime scene perché ci sono diversi momenti in cui l'emozione sale alle stelle, tra l'altro subito dopo momenti che ti fanno ridere, come ho appena detto, e nonostante magari il ritmo sembrerebbe discontinuo così, secondo me è organizzato molto molto bene. Sarà che è Gunn a lavorarci, ma sì, davvero, secondo me ha fatto un ottimo lavoro. A livello di regia ci sono delle cose interessanti, ci sono diversi piani sequenza che ho apprezzato, uno sul finale d'azione bello, molto bello, poi c'è il solito piano sequenza iniziale di ogni film dei Guardiani, con la musica, anche se qui è molto diverso dal solito. La mano di Gunn, oltre che alla regia, si nota anche sul fattore violenza e linguaggio, perché, se non sbaglio, questo è il primo film dei Marvel Studios in cui è stata nominata la F-Word, quindi il primo film volgare dei Marvel Studios. In Italia la parola con la C è stata detta diverse volte, ma traducendo dall'inglese shit, quindi non la stessa cosa. Questa volta, invece, anche in originale, la F-Word viene detta. C'è un'intervista, non so chi è stata fatta, ma ricordo di aver letto che Kevin Feige ha chiesto a James Gunn, non vuoi essere ricordato per il primo che ha detto la F-Word in un film Disney, perché alla fine Marvel Studios è Disney, e James Gunn ha detto, allora tu non mi conosci, è proprio quello che voglio fare, e questa cosa mi fa impazzire, perché anche in queste cavolate, James Gunn lo adoro. Oltre che al linguaggio c'è molta violenza, ok, è censurata dal fatto che il 99% del sangue che si vede sia sangue alieno, quindi giallo, verde, ma mai rosso, e questa è una cosa che aiuta molto il rated del film, perché se il sangue è rosso è molto molto violento, secondo qualche regola del rating appunto, e quindi rated R. Vietato ai minori di 18, anche se in Italia poi non arriva mai vietato ai minori di 18, come per esempio Deadpool, Deadpool non è vietato ai minori di 18 anni in Italia, e quindi magari fare il sangue alieno, giallo, verde, di altri colori, arcobaleno, qualsiasi colore tranne che il rosso, aiuta tantissimo il rating. Il film però è molto violento, soprattutto ci sono delle scene che non mi sarei aspettato, una sul finale, praticamente forse la scena più inquietante a livello fisico, con del body horror anche, che davvero non mi sarei aspettato. Le scene d'azione sono sempre al top, sono magnifiche, nessun problema nelle coreografie, nulla. Ad un certo punto il film sembra cambiare stile, lo dico, quando sono sulla Controterra, ok? Non è uno spoiler nei trailer, si vede la Controterra, ovvero il mondo in cui, il pianeta in cui l'alto evoluzionario, questo cattivone che, poi ne parliamo fra poco, ha messo un'altra specie creata da lui, questa specie ibrido umano, perché in realtà sono degli animali, non sono degli umani che sembrano animali, ma sono proprio degli animali, con sembianze umane. Ecco, lì il film sembra un po' cambiare il registro, ma ritorna subito quello che è. Fatto sta che tutte le scene sulla Controterra sono divertentissime, io vi giuro, non ho mai riso con un film dei Marvel Studios quanto con questo Guardiani della Galassia Vol. 3, proprio risate di cuore, Drax e Star-Lord perfetti, ma anche le scene per esempio con Nathan Fillion, che in questo film è stato inserito come un personaggio secondario, ecco, anche le sue scene sono divertentissime. È il film più divertente dei Marvel Studios, sotto il punto di vista umoristico. Parlando appunto dell'alto evoluzionario, è un villain in pieno stile Marvel Studios, ovvero un personaggio che non ha un background molto definito, ma almeno ha uno scopo, malato quanto più possibile, distorto, come volete, ma lo scopo c'è, non è quello di conquistare il mondo perché sì. A volte il personaggio è un po' sopra le righe, ma non mi ha dato assolutamente fastidio, anzi, il fastidio me l'ha dato, ma è quel fastidio che è pensato per il personaggio, infatti è un personaggio odiabile, fastidioso al massimo, per quello che vediamo, per quello che dice, per quello che fa, assolutamente, anche fuori schermo, anche off screen, che mi hanno fatto apprezzare un personaggio molto semplice, come anche questo alto evoluzionario, perché appunto è un personaggio molto, molto, molto basico, standard dei Marvel Studios, dei film, dei cinecomic Marvel. Altro villain, più che villain, antagonista dei Guardiani, abbiamo Will Poulter, che interpreta Adam Warlock, ero curioso di vedere questo personaggio, anche come l'avevano descritto, ovvero un bimbo, perché alla fine è quel che è, visto che è stato creato da poco, e nemmeno nel modo esatto, come era stato programmato, anche se da un certo punto di vista, è un personaggio un po' secondario, perché sì, fa delle cose molto importanti, più volte all'interno del film, fin dall'inizio, fin dall'inizio fa una cosa importantissima, che fa partire il film, ma anche alla fine fa delle cose importanti, quindi a livello di importanza non è secondario, però l'ho visto molto da parte, in confronto a quello che magari avrei voluto vedere di questo personaggio. Piccola nota, non vedo l'ora di vedere Superman Legacy, perché questo Adam Warlock da James Gunn è stato trattato praticamente come un Superman perfetto, e il modo di volare, il modo di combattere in molte scene, mi ha ricordato un Superman d'oro, e non solo perché effettivamente ha la pelle d'oro Adam Warlock, ma non vedo l'ora di vedere Superman Legacy, ve lo posso giurare, e niente, inaspettato il finale, non mi aspettavo questa conclusione, mi è piaciuta assolutamente, prima della visione avrei preferito un certo cambiamento nello status quo, un altro tipo di cambiamento nello status quo dei guardiani, ma dopo aver visto il film, dico che meglio così, assolutamente, il modo in cui hanno concluso alcune delle trame dei personaggi e non, è più che ottimo, va benissimo, ci sono dei momenti molto molto tristi, ma allo stesso tempo felici, di questo poi ne parliamo nella piccola parte spoiler, e in conclusione, le scene post-credit sono appunto due, la prima importante per il futuro, in realtà entrambe sono importanti per il futuro, però quella che mi è piaciuta di più è la prima, per diversi motivi, anche nostalgici, non saprei come dirvi, sono curioso per il futuro di questo braccio dei Marvel Studios, ma allo stesso tempo senza James Gunn potrebbe sembrare qualcosa di molto diverso, e quindi, davvero c'è questa, questa, c'è questo combattimento interno, che non saprei spiegarvi, perché sono curioso di vedere il futuro, ma senza, senza James Gunn, boh, non lo so. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto, cosa ne pensate voi del film, a me è piaciuto tantissimo, davvero, vi invito a seguirmi anche sugli altri social, soprattutto Instagram, dove ho pubblicato la recensione Fusa, su Letterboxd poi ho pubblicato la semplice recensione, ma in descrizione trovate anche il link di Pampling, il link del Fantasia Store, con rispettivi codici, su Pampling c'è il Pensiero 4, che vi dà un paio di calze gratis a scelta, associabile al vostro carrello, mentre sul Fantasia Store potete trovare Funko Pop, carte collezionabili, giochi in scatola, giochi da tavolo, e tanto altro, anche manga, fumetti, e con il codice ANDRI5 avrete il 5% di sconto su tutti i prodotti non già scontati del sito. Ma adesso, se avete visto il film, continuate la visione di questo video, perché gli spoiler inizieranno tra 3, 2, 1. Come primissima cosa, vorrei parlarvi del... di Rocket, di Rocket in questo film, perché è qui, in qualche modo, la vera origine del... origin story del personaggio, qui inizia a farsi chiamare Rocket Raccoon, finora non me ne sono mai accorto, ma effettivamente noi abbiamo continuato a chiamarlo Rocket Raccoon, ma lui non è Rocket Raccoon, non si faceva chiamare Rocket Raccoon, era semplicemente Rocket, anche perché lui stesso non pensava di poter essere un raccoon, un procione, qui invece lo capisce, sul finale, quando vede altri piccoli procioni nella stiva dell'alto evoluzionario, personaggio che ho apprezzato nonostante la sua standardizzazione all'interno dell'MCU, la scena terribile a livello anche secondo me horror, body horror, è legata alla faccia dell'alto evoluzionario, infatti quella che vediamo per la maggior parte del film è semplicemente una maschera fatta di carne, della sua faccia, poi appena Gamora, questa Gamora la stacca, si nota la vera faccia dell'alto evoluzionario, ad opera del piccolo Rocket, e questa cosa l'ho apprezzata, e non me la sarei mai aspettata, ecco, forse non l'ho detto nella parte non spoiler, potevo farlo tranquillamente, rapporto Star-Lord Gamora, l'ho apprezzato nonostante il finale che è diverso da come pensavo, perché secondo me, perché immaginavo un ritorno della coppia, cosa che non è avvenuta, non sono tornati insieme, non è detto che non torneranno insieme in qualche modo prossimamente, perché si vede sul finale Gamora che sorride un po', quel sorridetto di ok ho capito, non sono la me stessa che conoscevi tu, ma in qualche modo sto arrivando anch'io a quel pensiero su di te, quindi magari prossimamente la coppia Gamora-Star-Lord ci sarà. Come ho già detto, il modo in cui si conclude il film è inaspettato, non mi sarei aspettato la sopravvivenza di tutti i guardiani, davvero tutti, tutti vivi, rimasti vivi tutti, pensavo alla morte di Drax, o alla morte di Rocket stesso, e dopo aver visto il film posso dire che no, meglio così, meglio la sopravvivenza di tutti, anche perché James Gunn è riuscito a chiudere ogni singola storia dei personaggi, chiude la storia ma allo stesso tempo la lascia avverta per quel che verrà, perché secondo me prossimamente un Guardiani della Galassia Vol. 3 lo avremo anche, con un'altra formazione, visto quello che succede adesso ne parliamo, o altri prodotti in generale sui guardiani che sono rimasti, sui guardiani nuovi, magari non proprio un Guardiani della Galassia Vol. 3, una serie, una miniserie, uno speciale, non lo so, qualcosa secondo me arriverà, perché sarebbe troppo inutile averci presentato questo nuovo gruppo nella prima post-credit, con Adam Warlock, con Rocket al Comando, bellissimo, con un Groot che è enorme, non me lo sarei aspettato anche se conoscevo questa versione di Groot, con Cosmo, Kraglin, e quest'altro personaggio, una bambina, una delle bambine che è stata salvata da Drax, comunque dai guardiani, dalla nave dell'Alto Evoluzionario, creata da lui, era una della nuova specie che voleva creare, e non so minimamente chi sia questo personaggio, mi sono andato un po' a informare, e secondo il nome con cui Rocket l'ha chiamata, adesso non me lo ricordo, dovrebbe essere collegata in qualche modo a Captain Marvel, e non Captain Marvel Carol Danvers, ma il Captain Marvel dei fumetti, quello che muore di cancro all'interno dei fumetti Marvel, e infatti la prima cosa che ho notato con questo personaggio che ci viene presentato, questa bambina con i capelli bianchi, gli si illumina un occhio, e ha il potere, nelle mani ha il potere simile a quello della Captain Marvel dei film, quindi effettivamente in qualche modo ho fatto un collegamento, poi mi sono andato a informare, ho visto che è collegata a un altro Captain Marvel, che comunque Captain Marvel è, non so come potrebbe, non so per quale motivo abbiano messo questa cosa, non so se la riusciranno a collegare in qualche modo alla Captain Marvel Carol Danvers, non mi interessa nemmeno perché non la conosciamo come personaggio, d'ora in poi dovrebbe essere in teoria la figlia di Drax, non figlia reale, perché non è figlia biologica di Drax, ma abbiamo capito che c'è più o meno quel legame, e quindi ripeto, sono davvero curioso di vedere il futuro dei guardiani, però senza Ghan non lo so, i guardiani non muoiono ma si separano, ognuno va per la sua strada, Nebula e Drax rimangono a fare i genitori e capi di un pianeta, che è la testa del celestiale Nowhere, non credo che loro li rivedremo, Mantis, stessa cosa, è diventata in pratica la Daenerys di quei cosi, non so come si chiamino queste specie, ma è diventata la signora di quei cosi, Gamora adesso ha una nuova famiglia, ovvero quella dei Ravagers, con Stallone, e anche altri membri che originariamente fanno parte di un, nei fumetti fanno parte della prima formazione dei guardiani della galassia, almeno due o tre, i Ravagers che vengono presentati fanno parte dei guardiani nei fumetti, è una cosa che ho letto, non so adesso chi e quando o cosa, però lì c'è qualche vero guardiano della galassia, e Star-Lord invece torna sulla Terra da suo nonno, e nella seconda post-credit compare il leggendario Star-Lord, ritornerà, quindi su Star-Lord verrà fatto qualche altro prodotto sicuramente, non penso sia semplicemente un ritornerà magari in Secret Wars, credo davvero ci sia magari proprio il leggendario Star-Lord, il leggendario Star-Lord, una serie, una miniserie su Disney+, un film, anche se non so quanto un film possa reggere tutto su Star-Lord, soprattutto perché non capisco il motivo, perché a me piace molto come personaggio, non è apprezzato nella maggior parte dei casi, sarà per quel che è successo in Infinity War, ma la gente è molto stupida a pensare che sia un brutto personaggio solo perché fa succedere una cosa che serviva alla trama, e serviva a far succedere Endgame, che per molti è il miglior film Marvel mai fatto, quindi è tutto grazio a causa di Star-Lord, il personaggio che odiate. Devo dirvelo comunque, sono curioso anche per Star-Lord, nonostante James Gunn sia alla DC in questo momento. Interessante che ci siano i riferimenti anche al corto dei Guardiani della Galassia di Natale, sia con Kevin Bacon nei titoli di coda, proprio le immagini di Kevin Bacon attaccate come Polaroid, ma anche proprio nella seconda post-credit c'è il nonno di Star-Lord che legge un giornale con scritto la dichiarazione di Kevin Bacon, rapimenti alieni, che è una cosa un po' strana, perché non penso ci sia bisogno di intervistare Kevin Bacon per avere informazioni su rapimenti alieni, visto che viviamo nel mondo di Avengers, di quello che è successo, sanno tutti l'esistenza degli alieni, ok, è una cosa molto stupidotta, messa lì a caso. Non gli do tanto conto perché appunto ha poco conto già di suo, però mi ha divertito. Ho già fatto la recensione dello speciale dei Guardiani, se vi interessa lo trovate sul canale qui nelle schede. Nonostante non sia morto nessuno nel finale, mi stavo veramente spaventando per Star-Lord, visto che si è gonfiato nello spazio, e possiamo dire che era già morto in realtà, solo che con quel riferimento alla creazione di Michelangelo con Adam Warlock, che effettivamente in confronto a Star-Lord, sì, anche Star-Lord è per metà un dio, ma Adam Warlock è più dio di lui, e fa molto ridere che il terrestre, ovvero Adamo, sia Star-Lord gonfio, morto in realtà, e ci sia il quasi tocco della creazione. Bello, quello mi è piaciuto. Poi c'è anche, secondo me, un riferimento all'Arcadino Econ, tutti gli animali che scendono dalla nave dell'alto evoluzionario. inaspettatamente, quindi ci sono diversi riferimenti biblici, ma davvero, sono rimasto molto molto contento di questo film, credo che lo rivedrò prima di vederlo poi a casa, su Disney Plus, fra qualche mese. Spero faccia tantissimi soldi, perché se li merita assolutamente. Dico tranquillamente che è il miglior film di queste due fasi che stiamo vivendo in questo momento dei Marvel Studios, quindi della fase 4 e della fase 5, è il miglior film. Nonostante Doctor Strange in The Multiverse of Madness sotto alcuni punti di vista mi sia piaciuto anche, anche tanto, era il miglior film fino a Guardiani della Galassia Vol. 3, non c'è storia con questo qui. E l'importante comunque è anche divertirsi, e con questo film mi sono divertito sotto diversi punti di vista, sia sull'umorismo, sia sull'azione, perché l'azione è molto molto intrattenente e ben realizzata, ma anche sotto il punto di vista emotivo, perché ci sono delle scene molto 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 tristi, quindi nel senso giusto, non volevo dire tristi, volevo dire molto emotive. Basta. Ma ragazzi, quindi ripeto, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate, se volete fare spoiler non rovinate il film a chi ancora non l'ha visto, quindi scrivete già spoiler fin dall'inizio nel commento e poi scrivete il messaggio. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione trovate i link importanti tra i miei social, il link di Pampling e il Fantasia Store con i codici Il Pensiero 4 e Andri 5. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao.